L'Odissea si apre in cielo, Atena e Zeus si mettono d'accordo sul ritorno di Ulisse, ma in realtà il primo passo sulla Terra è nella camera di Telemaco. E mi ha sempre affascinato il fatto che questo poema che riguarda il destino del grande eroe dell'Occidente, Ulisse, ce lo presenti solo al quinto capitolo, e i primi quattro invece sono dedicati a suo figlio. Telemaco, il suo nome è un nome parlante, significa colui che combatte da lontano, E' lui che comincia il viaggio, è lui che prima che il padre torni deve far sì che il padre possa tornare e andarlo a cercare. E il primo capitolo dell'Odissea si chiude con una inquadratura stretta di Omero su questo ragazzo, che non riesce a prendere sonno perché comincia a pensare al viaggio che avrebbe intrapreso l'indomani. Doveva procurarsi una nave, aveva ancora paura di vivere, eppure l'inizio della grande epica del destino di quest'arte di essere mortali inizia con chi? Con un ragazzo di 15 anni che lotta per diventare uomo.